buongiorno ragazzi e doveva arrivare prima o poi doveva arrivare è arrivata nel peggior modo possibile perché perdere ci sta però qui non abbiamo solo perso la partita abbiamo perso anche la faccia abbiamo fatto veramente una partitaccia la sconfitta nel calcio ci sta dopo che comunque vinci sette partite non puoi sperare anche se comunque può succedere ma non puoi sperare che vada sempre tutto bene la battuta d'arresto ci può stare ma cazzo qua così in questo modo non è neanche una scusa la Champions perché cazzo giocano tutte le squadre in Champions però essere presi così a pesci in faccia non va bene oggi veramente non siamo scesi in campo oggi senza anima, senza cuore, senza grinta senza fisico l'Atalanta sembrava sembrava il Barcellona cioè eri riuscito un attimino a salvarti in Champions contro comunque una delle squadre più forti d'Europa sei andato a perdere su un campo di un Atalanta che onestamente non mi fa più paura come gli anni scorsi cioè quest'anno l'Atalanta non stava neanche dimostrando di essere sta grande squadra da poterti mettere in difficoltà invece siamo riusciti a trasformare dei contadini in in un top club e vabbè ormai è andata ci sta cerchiamo di di ripartire da qui non sfaldiamoci come tutti gli anni perché si sta ogni volta torna a quest'incubo quando arriva novembre dicembre si sa che l'Inter spegne spegne la spina non possiamo permetterci ragazzi quest'anno cerchiamo di dimostrare che anche da queste sconfitte anche da queste batoste possiamo ripartire abbiamo una Champions ancora da una qualificazione in Champions da da confermare quindi per piacere adesso cercate di di rimettere a posto i pezzi cercate di di lavorare perché oggi non salvo niente a parte Andano dice nel primo tempo che ha veramente ha salvato il possibile l'Atalanta alla fine si è solo ripresa quello che aveva sbagliato nel primo tempo cioè un risultato giusto tutto sommato non si può dire nulla nel secondo tempo poi hanno semplicemente sistemato un attimino hanno migliorato il tiro e e si sono ripresi quello che avevano perso per il resto dalla squadra veramente io non non salvo niente non salvo niente non capisco spalletti cioè hai la sosta è vero hanno giocato in Champions mercoledì ok ci sta che ci sia un calo fisico ma poi porca puttana ci sono le pause c'è la pausa ma sfruttali un attimino stai andando a giocare a Bergamo Gesù non è che stai andando a giocare in casa col Barletta butta dentro i titolari butta giù una formazione come si deve prova a giocartela non puoi farmi un turnover così ogni cazzo di volta cioè posso capire che tu dici ragazzi quest'anno vogliamo vincere la Champions trascuriamo il campionato figa ma non è così non puoi non puoi trascurare il campionato non possiamo lasciare regalare punti e prestazioni così non ci sta non si può fare ma poi nel secondo tempo vedi che l'Inter non c'è dobbiamo recuperare un risultato stai perdendo ma butta dentro Martinez ma porca puttana che cazzo l'hai comprato a fare per paura di bruciarlo e vabbè ho capito allora teniamolo in panchina e facciamoli prendere fuoco da solo in panchina cioè almeno in queste partite buttalo dentro cosa ti costa tanto alla fine quattro pannocchi le hai prese lo stesso quindi non è che puoi dire cercavamo di tenere la sconfitta per non farli dilagare ho capito alla fine l'hai presa nel culo lo stesso tanto vale che butti due attaccanti te la provi a giocare niente sono i limiti che Spalletti purtroppo non capirà mai e quindi niente ci portiamo avanti sta sconfitta cioè ripartiamo adesso col Frosinone vediamo cosa combiniamo io volevo dimostrare a tutti che comunque non scrivo non faccio bei video solo quando vinciamo anche perché è che possiamo permetterci di vincere 38 partite su 38 quindi io comunque ci sono e volevo ricordare anche il perché io a volte cago il cazzo al Milan piuttosto che alla Juve perché oggi per esempio ne tiro fuori una così a caso un demente un cerebro leso è andato a ripescare un posto di qualche giorno fa in cui si parlava di Juve e Manchester per venire a rompere i coglioni che abbiamo perso oggi con l'Atalanta allora se non volete che io vi rompa il cazzo ma non venite a rompermi i coglioni ma che malati siete cioè domenica a mezzogiorno tu ti stai guardando l'Inter sperando che perda per venire a commentare quel posto dicendomi avete perso ma che malati siete ma poi non vi lamentate se quando perdete io vi rompo i coglioni ma fatevi il vostro campionato noi non siamo la Juve non siamo il Barcellona noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno noi dobbiamo farci il nostro campionato gli imbattibili siete voi quindi fatevi il vostro campionato vincete tutte le coppe possibili i campionati possibili perché ovvio nel momento in cui non riuscite in questo obiettivo è normale che tutto il mondo vi si scagli contro perché siete veramente una tribù del cazzo quindi se io mi vengo a tatuare gobbi di merda sul braccio non lo faccio perché sono malato sì cioè anche sono malato ma perché voi ve lo meritate perché siete veramente siete veramente una vergogna una disgrazia cioè io poi vabbè ci sta lo sfottò mi viene a cercare in un post di quattro giorni fa per dirmi avete perso 4-1 a Bergamo va bene cioè è meritata non posso dire niente non posso dire che cazzo stai dicendo mi ha fatto cagare lo ammetto però per farvi capire cioè io non andrei mai a ripescare i post delle persone di 20 anni fa per dirgli avete perso qua proprio è una malattia la vostra è un'ossessione voi siete frustrati e lo dimostrate così in questo modo quindi io quando perderete sarò ancora lì erò un pervi coglioni niente ragazzi forza Inter amala anche anche in queste disgrazie buona domenica a tutti grazie a tutti grazie a tutti